La vita di Cesare Pavese. Nel 1908 Cesare Pavese nasce a San Stefano Belbo. Santo Stefano Belbo si trova appunto presso queste colline delle Langhe, in Piemonte. La famiglia comunque risiede a Torino ed è una buona famiglia borghese. Lui è ultimo di cinque figli, però a otto anni muore il padre. E questa cosa sicuramente lo turba, anche più o meno come è avvenuto a Umberto Saba. La mancanza del padre, nel caso di Saba si trattava di una mancanza non fisica perché il padre fosse morto, ma una mancanza, nel senso che il padre non c'era comunque, era da altre parti, costringe la madre ad un atteggiamento più rigido e severo nei confronti del figlio. E quindi quello che un po' era successo a Saba succede un po' anche a Cesare Pavese. Quindi si instaurava una fragilità psicologica. Lui trova sempre più difficile affrontare la vita. Lo dirà nel suo diario, che infatti ti intitolerà significativamente il mestiere di vivere. Cioè è un lavoro, è una fatica vivere in questa situazione, in questa condizione. Ecco, poi dopo Pavese studia in città, ma quando è in città rimpiange la campagna. Voi che avete letto La casa in collina sicuramente vi ricorderete di questa antitesi fra la città e la collina, quindi la campagna e la collina, anche se quella era la collina torinese. Invece le colline in cui lui è nato sono le colline delle ranghe, ma poco importa. Comunque c'è questa contrapposizione, che comunque si va di bene, è stata analizzata dal saggista francese Dominique Fernandès, il quale ci ha detto una cosa interessante però. Perché è stato un po' psicanalizzato anche il nostro povero Cesare Pavese, così come tanti altri autori, post-mortem. Però quello che dice questo tale Fernandès è interessante. Infatti lui dice Pavese manifesta molto precocemente due personalità, ma non riesce a farne coincidere alcuna con l'esperienza direttamente vissuta. In campagna si comporta da cittadino, in città da contadino. In tal modo egli non è soltanto sdoppiato, non è mai interamente se stesso. Ecco, senza dubbio il primo sintomo del suo disadattamento, della sua incapacità di vivere. Ma scusate, ma come non farci venire in mente qua a Pirandello? Quello che abbiamo studiato su Pirandello, quindi sul doppio, no? Sulla ambiguità. È un'ambiguità esistenziale che lui vive in se stesso, profondamente. È sempre disadattato, è sempre fuori di chiave, direbbe Pirandello. Sempre fuori posto, fuori luogo. Quando è in città perché rimpiange la campagna, cioè la collina. Ma quando è in campagna perché è considerato un cittadino ormai, no? Quindi uno che non... Comunque voi che avete letto La casa in collina, avete colto nel protagonista Corrado, quel professore che ha dei caratteri sicuramente autobiografici, avete colto questo disagio profondo che vive. Dopo il ginnasio, Pavese frequentò il liceo d'Azeglio ed ebbe questo maestro, Augusto Monti, che fu maestro anche di altri giovani intellettuali antifascisti. Augusto Monti è il professore di questo liceo d'Azeglio che diventa professore di alcuni giovani che poi saranno tra i più importanti intellettuali antifascisti. Quindi Massimo Mila che poi scriverà La storia della musica e Giulio Eunaudi che fonderà questa casa editrice che è molto importante. Infatti, come abbiamo già detto, scriveranno per questa casa editrice anche Italo Calvino e altri. In questo periodo approfondisce il suo interesse per la letteratura e in particolar modo per la letteratura americana. Ecco, diciamo che l'interesse per la letteratura americana porta ad un passaggio importante nella nostra storia letteraria, ad un cambiamento, una svolta, insomma. La letteratura americana infatti si caratterizzava per un maggiore realismo, innanzitutto, per la prevalenza dell'azione, sulle riflessioni, eccetera. e quindi sarà importante per la nascita poi del neorealismo. La traduzione di alcuni autori americani, e lo stesso Pavese diventa traduttore di alcuni di questi autori, soprattutto narratori, soprattutto Hemingway, ma anche altri, Faulkner, eccetera, sarà importante per la nascita del neorealismo. Lui però fece una tesi di laurea su Walt Whitman, quindi sul poeta americano. Però, insomma, era un americanista, traduceva testi americani, e fece un'antologia importante, curò insieme ad altri un'antologia di questi autori americani, e quindi, diciamo, si crearono le premesse per un cambiamento importante anche a livello delle tecniche narrative. Lui frequentava, ovviamente, abbiamo detto, persone che erano ostili al regime. Era però uno dei meno attivi, come avete visto anche leggendo La Casa in Collina, non era, con il nostro Corrado, insomma, non era una persona che si caratterizzasse per attività. Comunque, venne trovato in possesso di alcune lettere antifasciste, in cui si parlava male del regime. E solo per questo fatto fu condannato al confino, quindi confino a Brancaleone Calabro, confino per tre anni, che poi dopo fu ridotto a un anno per buona condotta. Per un anno, quindi, fu costretto a stare lontano da Piemonte, e questo elaborò, poi, durante questo confino, elaborò, innanzitutto, alcune poesie, le poesie di lavorare stanca, sicuramente, e poi questo ispirò uno dei suoi primi romanzi, che si intitola Il Carcere. E intanto cominciò a scrivere questo diario, che è il mestiere di vivere. Poi, ritornando in Piemonte, quella ragazza con la quale era fidanzato, la trova che si era sposata con un altro. E quindi questo già rappresentò una sua prima delusione amorosa. Voi che avete letto La casa in collina, vi ricorderete sicuramente di Cate. In un certo senso, la delusione che ha avuto Conrado con Cate, un po' assomiglia a quella che ha avuto Cesare Pavese con questa prima ragazza. Comunque, visto che le sue poesie di lavorare stanca non hanno avuto un grande successo, si dedica di più alla narrativa. e le sue opere, le prime opere narrative, quindi i romanzi, Il Carcere, Paesi tuoi, La spiaggia, ebbero, riscossero un maggiore interesse rispetto alle poesie. E così, diciamo, scelse la narrativa, soprattutto per esprimere insomma, questo nuovo modo di fare letteratura, sicuramente. Dopodiché, durante gli anni della lotta partigiana, come ben sapete voi che avete letto La casa in collina, anche lui, come Corrado, si rifugia, però lui si rifugia a Serra Lunga di Crea nel Monferrato, mentre invece Corrado, vi ricordate, si rifugia presso la casa dell'Elvira in colline, la collina vicino a Torino. E non partecipa attivamente alla resistenza, esattamente come Corrado, e poi si pente di questo. E come per poter in qualche modo non so come dire, riparare a questo torto, si iscrisse subito dopo la guerra al Partito Comunista. E approfondì in quegli anni dell'immediato secondo dopoguerra l'interesse per il mito, e anche in base a questo poi scrisse il testo dei dialoghi con Leucò e scrisse poi i suoi romanzi più famosi, tra cui appunto lo stesso La casa in collina e ricordate almeno anche Il compagno e La luna e i falò. Dice che, questi che furono anche anni di successo, in un certo senso, lo stesso Cesare Pavese dice La beatitudine del 48-49 è tutta scontata, dietro quella soddisfazione olimpica c'era questo, l'impotenza e il rifiuto a impegnarmi. Adesso, a modo mio, sono entrato nel gorgo, contemplo la mia impotenza, me la sento nelle ossa, mi sono impegnato nella responsabilità politica che mi schiaccia. La risposta è una sola, suicidio. Attenzione, questo lo scrive lui e ci testimonia quindi che il suicidio poi che scelse, che attuò meglio, non fu solamente dovuto alla delusione amorosa per via di questa americana Constance Dowling che se ne andò via dall'Italia e quindi che lo lasciò con tanto ordinato, ma fu dovuta a questo disagio profondo e quindi lui prese il premio strega che suggellò, insomma, il suo successo nella narrativa nel 1950. Ma in quello stesso anno, il 27 agosto, in una camera d'albergo, si tosse la vita. Ti interessano file di questo genere? Allora vieni su www.gaudio.org e iscriviti alla newsletter A Scuola con Gaudio all'indirizzo www.gaudio.org slash news A Scuola con Gaudio